Stamattina siamo qui al sito archeologico di Literno Maggiuliano su un progetto finanziato dalla città metropolitana per la messa in sicurezza dell'antico Tempio Romano. Qui alle mie spalle c'è l'antico Foro Romano dove la città metropolitana con un intervento di circa 50.000 euro sta mettendo in sicurezza la base del vecchio Tempio riconsolidando la colonna del foro e oltretutto stiamo provvedendo a rifare anche una facciata del Tempio. Tutto questo per un'ottica di valorizzazione di queste aree. Devo dare atto al sindaco dei magistris che ha un'attenzione particolare e quindi stiamo cercando di portare alla luce e di far risorgere quello che è stato negato al pubblico per tanti anni. Cioè una vecchia cittadina romana dove si narra che fu sepolto Scipione l'Africano. Ci tengo particolarmente a questa zona perché è una zona che potrebbe usare partendo proprio da questi tempi, da questa storia, un volano di sviluppo per l'intera area. Noi abbiamo iniziato in città metropolitana anche con la consigliera delegata ai siti unesco Elena Coccia, proprio un percorso di valorizzazione di quest'area e abbiamo portato questo sito archeologico al Salone Mondiale dell'UNESCO. Quindi questo percorso congiunto con la consigliera Coccia, con il consigliere Nicola Pirozzi e i lavori pubblici, con la città metropolitana e l'attenzione che il sindaco metropolitano De Magisti sta dando a queste aree sono convinto che in pochi mesi riusciamo a rendere anche fruibile al pubblico questo bene prezioso che abbiamo su questo territorio. Ringrazio il Ministero dei Beni Culturali che ha nominato tramite il Parco archeologico dei Campi Fregei anche il direttore di questo sito in particolare. Quindi per la prima volta noi ci interfacciamo col Ministero direttamente con un suo referente sul territorio. Io sono convinto che questa sinergia possa veramente in tempi brevi portare a risultati fantastici. L'obiettivo che ci siamo preposti è quello che in tempo breve vogliamo rendere fruibile e accessibile sia alle scolarische che al pubblico queste aree. Questo lo facciamo congiuntamente con il Ministero che ci sta dando un supporto e sono convinto che in tempi brevi riusciamo a raggiungere questo importante obiettivo.